Musica Questa sera l'associazione nel gioco del jazz tradisce la sua vocazione e assecondando l'altra sua anima, che è poi una vera e propria linea artistica, fa un salto nella musica classica, con un concerto per piano solo della pianista giapponese Masako Yoshitake. La location scelta, il caffè d'arte dolce amaro, regala all'esibizione una dimensione intima e raccolta, consentendo una fruizione alternativa rispetto ai più tradizionali e ampi spazi, come sono quelli dei grandi teatri. Protagonista di una tournée pugliese che la porterà, tra l'altro, al Festival Traetta di Bitonto, la Yoshitake propone un programma all'insegna dei grandi nomi, che sono poi anche i più amati del genere, Brahms, Chopin e Litz. Una serata insolita, dunque, all'insegna della maestria e della grazia di questa brava artista giapponese. Grazie.